Siamo a Campanaro 67, questa sera è a Barbara, in una sala pubblica donata dagli americani qui al comune di Barbara e mi trovo dinanzi a una campana che è stata ordinata dal comune di Barbara nel 1948, vediamo la dicitura, comune di Barbara anno 1948, quindi questa campana stava praticamente nella torre civica e batteva le ore degli abitanti di Barbara che si chiamano Barbaresi e purtroppo è rotta in quanto da questa parte si nota, eccola qui, la zona in cui il martello esterno batteva le ore e invece guardandola dal davanti, vedete le maniglie, ecco lo sfiuto del bronzo e corrispondentente sotto, eccola qua, più o meno all'altezza del mio dito, dove sono, eccomi, la crepa, zoomo al massimo, ecco, evidentissimo la crepa, quindi la campana è purtroppo ormai inutilizzabile. Questa campana è stata fusa dalla ditta Peppino Mari Fu Loreto di Torre dei Passeri nel 1948, quindi la campana è stata fusa nel 48 appunto per volere del comune di Barbara. Ecco qua, ringraziamo chi ci ha fatto fare questa chi ci ha dato questa possibilità di fare questo servizio. Ciao a tutti da Campanaro 67 e da Barbara in provincia di Ancona. Arrivederci.